METEOSETTE.IT La regione è interessata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel corso di questo fine settimana, l'azione di una depressione sul Marocco stimolerà la risalita di aria calda che andrà a rinforzare temporaneamente il campo anticiclonico in quota. Andando più nel dettaglio, invece, cosa ci attende per il tempo previsto per le giornate di domani, sabato 20 e domenica 21 aprile? Per domani, sabato 20 aprile, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Temperature in lieve aumento, venti deboli da est-nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Per domenica di Pasqua, cielo irregolarmente nuvoloso per nubi alte stratificate. La nuvolosità si presenterà più compatta nel corso del pomeriggio, interessando segnatamente i settori occidentali della regione. Temperature in ulteriore aumento con valori che si porteranno al di sopra della media del periodo. Probabilmente si supereranno i 20 gradi centigradi. Venti deboli da est, tendenti a disporsi da scirocco, rinforzando dalla serata. Mare da poco mosso a mosso. E per quanto riguarda invece la giornata di lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, che cosa ci aspetta? Per la giornata del lunedì dell'Angelo avremo cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con possibili precipitazioni. I fenomeni saranno più probabili sui settori centro-settentrionali della regione. Temperature stazionarie su valori ben al di sopra della media stagionale. Venti moderati da scirocco fino a forti in mare aperto. Mare mosso sotto costa, molto mosso o agitato a largo. E sulla tendenza della prossima settimana, come si svilupperà la situazione? Martedì la depressione nord-africana si avvicinerà alla nostra regione, favorendo l'inserimento di correnti da sud-sud-ovest e dunque meno calde. Le temperature pertanto subiranno una moderata diminuzione in un contesto di tempo instabile. Da mercoledì 24, probabile una nuova fase di bel tempo con temperature insensibile aumento. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it